Il problema di oggi è che vorrei tanto degli spring roll per accompagnare questa grigliata ma non so proprio come cucinarlo Bene, il dubbio metto un po' di riso in una foglia di banana, arrotolo il tutto e lo spring roll è pronto Chiedo a Mattia che ha appena fatto il corso di cucina dietro la mita e mi insegna subito Grazie